Una partecipazione ampia e consapevole, rafforzata da reciproco riconoscimento e dal dialogo tra tutte le componenti politiche e sociali della coalizione. È da questi elementi che deve partire la ricerca del candidato o della candidata alla presidenza della Regione con il più ampio consenso possibile all'interno dell'Alleanza, anche valutando un ricorso alle primarie. A dirlo in una nota i progressisti in Consiglio regionale, che presentano il piano d'azione della coalizione democratica in vista delle amministrative regionali. Punto fondamentale, un agire politico nel nome della convergenza degli sforzi delle forze politiche democratiche, progressiste, ecologiste, dell'autonomia e dell'autodeterminazione per raggiungere un programma che centri gli obiettivi di cambiamento e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in Sardegna. Tra gli elementi che i progressisti ritengono necessari e più rappresentativi dell'attività dell'opposizione portata avanti in Consiglio in questi anni, la difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'isola, l'organizzazione di politiche integrate per l'istruzione, il potenziamento del sistema sanitario regionale, un sistema di trasporti adeguato, il rilancio del sistema autonomistico, la semplificazione burocratica e nuove e più efficaci politiche per la famiglia e i giovani. Punti che, secondo i progressisti, possono contribuire a mantenere alto il livello del confronto politico per un'effettiva rinascita della Sardegna, che può realizzarsi solo attraverso la partecipazione consapevole del nostro popolo.